Tu lo sai tenere un segreto? Non lo sa nessuno, neanche il mio manager. Io sono venuto qui per scrivere un album completamente nuovo, anzi vecchio. Vorrei poter ricominciare a cantare come quando mi sono ennamorato della musica, capisci? Ma che cazzo vuoi capire tu a 17 anni? Avanti seguimi. Come? Improvvisa, con la tua voce. ... Sì, sì, sì. Perché non canti qualcosa di tuo? Dai? Ma perché non la so suonare? Dio, che palle! Che palle! Ma che palle con questo non ce la faccio! Che palle!